salve a tutti e benvenuti sull'Aviland oggi di nuovo mini tutorial andiamo a fare un altro elemento per il progetto che andremo a fare nei prossimi giorni di facile realizzazione e niente di impegnativo ho messo le luci a luce fredda quindi bianche se mi fate sapere magari nei commenti se meglio se si vede meglio la lavorazione lo gradirei perché così mi regolo se tenere quelle che avevo prima o rimanere queste nuove e questo motivo l'ho realizzato sempre con il filo del tutorial precedente quindi cablet numero otto ho messo insieme però un po di questo filato lame argento li ho lavorati proprio così doppie praticamente e ho usato l'uncinetto 1,75 mm e poi le forbici naturalmente per decidere il filato niente io probabilmente metterò una foto del del progetto che andremo a realizzare con questi elementi che sto facendo con questi mini tutorial la metterò sul blog quindi se tra di voi ci sono delle curiose che vogliono saperlo anticipatamente magari vanno a sbirciare sul sul blog altrimenti nei prossimi giorni poi realizzeremo assembleremo il tutto e niente mi sembra che ho detto tutto seguitemi sempre rinnovo l'invito come al solito su tutti i social se vi fa piacere lascio sempre tutti i link e per qualsiasi cosa scrivete scrivetemelo nei commenti e se il tutorial di vostro gradimento lasciate un like grazie a tutte e vi lascio il tutorial buon lavoro dunque andiamo ad iniziare il motivo e facciamo una catenella di sei punti quindi 1 2 3 4 5 e 6 andiamo nella prima a chiudere con un mezzo punto basso e andiamo a fare una catenella andiamo a fare 12 catenelle nell'anello che si è formato e 12 punti bassi nell'anello di catenelle e lavoriamo insieme le codine così alla fine abbiamo un lavoro pulito quindi 2 3 4 avendo fatto le 12 maglie basse andiamo nella prima maglia bassa fermare con una mezza maglia bassa e andiamo a fare quattro catenelle saltiamo un punto di base e andiamo nella prossima fare un punto basso 4 catenelle saltiamo un punto di base e nella prossima una maglia bassa dobbiamo avere sei archetti alla fine ho fermato le ultime quattro catenelle nell'ultima maglia bassa con un mezzo punto basso e adesso andiamo nel primo arco e facciamo una maglia bassa un mezzo punto alto tre punti alti due tre un mezzo punto alto è una maglia un punto basso sempre nello stesso archetto dobbiamo fare questa sequenza quindi facciamo di nuovo un punto basso nell'arco seguente un mezzo punto alto tre punti alti 12 mezzo punto alto è un punto basso finale quindi la sequenza è questa lo dobbiamo ripetere per sei volte quindi andiamo a fare gli altri quattro dunque arrivati alla fine del giro andiamo a fermare il tutto con un mezzo punto basso e andiamo a mezzo punto basso nell'altro nel punto seguente e poi facciamo cinque catenelle saltiamo un punto è nell'altro un punto passo 234 di nuovo 5 catenelle saltiamo un punto di base in quello seguente un punto basso 3 catenelle tra i due petali facciamo 3 catenelle e andiamo in questo punto qua saltiamo 12 nel terzo un punto basso 5 catenelle 5 catenelle 5 catenelle saltiamo un punto e andiamo a fare un punto basso 3 catenelle tra i due petali saltiamo due punti andiamo a fare un punto basso e così per tutto il giro sono arrivata alla fine del giro quindi adesso andiamo con un mezzo punto basso nel punto sottostante seguente adesso andiamo a fare andiamo ancora un punto con un punto basso nell'altro seguente così andiamo proprio al centro e andiamo a fare un po di catenelle vediamo quante 3 4 5 6 7 8 9 10 facciamo 20 20 catenelle e andiamo a fermare il tutto nel punto dove abbiamo fatto precedentemente il mezzo punto basso sempre con un mezzo punto basso facciamo una catenella per assicurare il lavoro tagliamo i fili sfidiamo ed il motivo è pronto adesso questo è un motivo come ho detto in precedenza per il progetto che andiamo a fare andremo a fare più avanti è un altro elemento quindi vedete che c'è il gancetto per appenderlo potete usarlo tranquillamente come decorazione per l'albero ad esempio oppure per fare una ghirlanda e la potete fare del colore che vi serve naturalmente colori natalizi dal dorato al rosso il colore che avete deciso di addobbare quest'anno la casa e io la utilizzerò vedrete poi più avanti come quindi io spero vi piaccia ci vediamo al prossimo tutorial grazie